Buoni prenotazioni dei vaccini contro il covid per i bambini dai 5 ai 12 anni. Sono già oltre 1000 le richieste per somministrare la prima dose ai bimbi residenti nella nostra provincia su un campione per fascia di età che si aggira intorno alle 20.000 unità. A spingere in questa direzione le numerosi classi finite in quarantena durante la quarta ondata oltre che le imminenti festività natalizie. Il dato si inserisce in un trend positivo per quanto riguarda le somministrazioni. In provincia di Lecco, sempre in testa in Lombardia per dosi inoculate, attualmente l'82% della popolazione ha ricevuto il vaccino. L'entrata in vigore del super green pass e le conseguenti nuove restrizioni ha dunque spinto sull'acceleratore convincendo molti che non si erano ancora vaccinati e recarsi negli hub di Lecco e Merate. Alta anche la percentuale di persone che già oggi hanno ricevuto la terza dose. Siamo il 23,78% della popolazione totale. Un lecchese su quattro insomma è già nuovamente immunizzato contro il coronavirus. Dal 15 di dicembre inoltre scatta l'obbligo per il personale medico, per i lavoratori della scuola e per le forze dell'ordine. Numeri che si pongono in un quadro delicato a livello sanitario con i contagi in risalita in tutto il continente e anche in Italia. Il governo sta valutando di ripristinare l'obbligo della mascherina all'aperto. Stando alle proiezioni la Lombardia dovrebbe comunque rimanere in zona bianca fino a Natale. Se ci apprestiamo a festeggiare con qualche problema in meno è dunque soprattutto merito del vaccino.